Ciao a tutti, se siete qui forse mi conoscete già, io sono Emily e ho un blog su Instagram che si chiama 25 with toddlers, io mi occupo di process art e di gioco sensoriale per bambini dai 6 mesi ai 6 anni da ormai 2 settimane ho questo canale su youtube dove ogni giorno pubblico un video con un'attività che potete fare in casa con i vostri bambini da lunedì al venerdì, oggi facciamo un'attività estremamente semplice, vi dimostro come potete dipingere con il ghiaccio riempite con acqua i cubetti della vaschetta per il ghiaccio e aggiungete del colorante alimentare in diversi colori mescolate bene il colorante alimentare con l'acqua inserite in ogni cubetto un bassoncino di legno oppure uno stuzzicadenti adesso mettiamo tutto nel congelatore per almeno 3 ore passate le 3 ore possiamo tirar fuori la nostra vaschetta per il ghiaccio ora prendiamo un foglio e iniziamo a dipingere questa attività va benissimo per bambini di tutte le età il mio Noah che ha poco più di un anno si è divertito soprattutto ad assaggiare il ghiaccio questa attività è un ottimo esempio di unione tra gioco sensoriale e arte se vi è piaciuto questo video lasciate un like condividetelo e iscrivetevi al mio canale ricordatevi che mi trovate su instagram sotto 25 with others e che ci vediamo domani per un nuovo video ciao 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 ciao